Così o così, sì, basta. Non usa altri tecnici, perché questi sono funzionabili. Questi mi rompono quadricipiti, non polparci. Sì, stop. Io? Così. Oh, ok. Grazie. 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 Pieda. Siediti con culo sopra di me. Oh, e pieda. Ok. Adesso si. E vai con ginocchio a spingire l'altra gamba. Так. E destra. Oh, in ginocchio, in ginocchio. Con tibia in musculo. Con tibia. Oh, 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 oh. E lavoro in testa, con sinistra. Qua controllo sotto. Sotto la braccia. Ok, e con sinistra. Miechi giù, miechi giù. Si, e lavoro in testa. Pum, 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 pum. Voi defendersi? Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Di qua? Pum, gomito, gomito. Bam. Bam. Unico solucionio, miechi giù, eskapare, quavimus, kiena. designed隻 noore. Pum, pum, pum. Pum! Pum. Grazie. Questa è tante cose di fare di qua. Tantissime cose di fare di qua. E non solo. Questa molto fisiologica. Non deve fare di qua. Mostra d'estrafa e sinistra. E dimiciatra. E lui. Oh qua. Storne al colo. C'è un commento. Piano piano. Hai presa e tutto. Continua a sviluppare questo. Cosa devi fare? Adesso devi seguirmi con parole. Il Sirino si è una stocca. Oh. Adesso. Adesso prendete la mia caviglia. Quella caviglia. Questa. Non questa. Prendetele. Vai giù, vai giù, vai giù. Oh. No, no, no. Oh. E vai. Ok. Si. E neanche si vada così. No, no, no. No, no. Controlla, controlla. Controlla, controlla, controlla gambe. Perché? Così, così. Sì. E per me è? No, sì. No, no. No, no. No, no, no. E perché? No, 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 no. hai visto? quella cosa da ieri, dall'altra volta vai se vuoi occuparsi si chiama, si chiama, qua basta Nizi non deve fare con me non deve fare fretta, anche se sei giunto dentro, sei sotto si chiama, si chiama si chiama, si chiama, come tempo li chiama, si chiama, iniziare друзья, is tower il lancer vienen sempre oh lascia oh 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 come tu bravo oh buona giornata a tutti buona serata magari qualcuno guarderà mattina oggi siamo a barczych siamo a barczych oggi abbiamo позволito fare una montagna di 2 mm un esplendido un'air pulito un'atmosfera di montagna un'area ionizzata mi sento proprio pieno di forza pieno 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 Sì, invitiamo tutti che vogliono fare Jiu Jitsu a venire a fare i nostri allenamenti, dobbiamo stringere una bella gruppa per fare tecnica.